Anche dal nostro campaghi c'è tre persone che hanno avuto l'incidente là, uno è morto, altri sono suoi, altri sono in ospitali. Non lo so, noi siamo stanci, voglio il nostro documento è passato. A Siciliano, a Bacottiato. Perché dubbiatevi dopo qui? Non lo so. Quanti siete? 164? 164, sì. Prima siamo 185 mariaggi andati, noi siamo 164, siamo qua da due anni, stiamo aspettando ancora niente. Osa, ora aspettate una risposta o quattro le prete? Stiamo aspettando il nostro documento, non lo so che è successo, nessuno sa che è successo qua. Siamo qua da due anni, per permesso di sedere sei mesi, nessuno può avere lavoro, e nessuno vuoi andare in strada a chiedere soldi, nessuno vuoi andare in strada a spazzare. Voglio lavorare, quindi voglio un mio documento. Naturalmente senza documenti non vi fanno lavorare? Senza documenti non mi fanno lavorare con un documento di sei mesi, nessuno può prendere rischio. Perché quando tu prendi il rischio di sei mesi, io lavoro con te sei mesi, dopo sei mesi mi hanno mandato via, non posso fare, quindi nessuno può prendere rischio. Stiamo aspettando il nostro documento. Buona 2 Grazie. Grazie. Grazie.